Ehi Lenny, so che rischieremo la galera, ma dobbiamo pur sempre farlo. Andiamo! Due uomini d'affari che provengono dalla campagna californiana sono ogni giorno alla ricerca dell'affare vincente. Jeffrey Charlison. Ragazzi, guardate cosa stiamo per comprare. Guardatelo, un trattore da 10.000 euro. Guardatelo. Salve a tutti amici, io sono Jeffrey Charlison, un noto affarista americano. Non ho assolutamente timore di affrontare il mercato italiano. Andiamo! Lenny, forse ho trovato qualcosa. Cos'hai trovato? È un ordine di cose! È un po' in folle! Scatto scappato! Jeffrey Charlison, un esperto in materia che nel 2019 in America ha fatturato la bellezza di 12 milioni di dollari. Non lo spaventa l'Europa. Amici, diventeremo miliardari! Lenny Bezos, uomo d'affari parenti di un noto miliardario. Nel 2019 ha fatturato la bellezza di 11 milioni di dollari. Niente male per uno che è nel mestiere da 10 anni. Con questi due personaggi il divertimento è sempre assicurato. Affari amatoriali. Prossimamente su BigTagger Plus. Solo su YouTube. Ciao! Ciao! Grazie a tutti